Lunedì 18 maggio alle 12.30 nell'ambito degli eventi di Rieti, città amica dei bambini, l'assessora alle politiche socio-sanitarie Stefania Mariantoni e la consigliera con delega alle pari opportunità Pamela Franceschini consegneranno al reparto di pediatria dell'ospedale dell'Ellis di Rieti, alla presenza del primario dottoressa Franca Faraoni, 30 copie del libro Favole dell'attesa. Il libro è legato al progetto editoriale Segui il cuore, che coincide con un esperimento d'amore. Acquistando un libro, porti a casa la tua copia e aiuti a regalarlo un'altra a un reparto di pediatria in un ospedale italiano, un'operazione no profit che si basa sull'autofinanziamento. Il progetto Segui il cuore nasce dal desiderio di Vincenzo Federico, che in una sala d'attesa di chemioterapia, scambiando sms con sua sorella Margherita, esprime un desiderio. In ospedale ci dovrebbero essere dei libri per tenere compagnia pazienti, aiutarli ad evadere e ad affrontare la malattia con ottimismo. Dal sogno di Vincenzo, nel 2013, è nato racconti in sala d'attesa, 12 racconti brevi donati a oltre 60 ospedali e il progetto continua a crescere.